Signori, oggi tante belle novità per quanto riguarda sia il mondo di Dragon Ball Xenov S2 e sia il mondo di Dragon Ball Z Dokkan Battle Infatti, me lo stavate scrivendo ormai da ieri Blazzi, hai visto? Hanno annunciato questo Sì, ho visto tutto, ho visto tutto e ne andiamo a parlare insieme all'interno di questo video Spettacularis! Quindi signori, mettetevi belli comodi sulla vostra sedia ed andiamo a parlare prima di tutto del nuovissimo annuncio Per quanto riguarda Dragon Ball Xenov S2 Infatti abbiamo quello che possiamo ormai definire il settimo DLC e ve ne parlai già circa nemmeno un mesetto fa Vi parlai di personaggi quali Toppo e Kefla Ebbene, ebbene, ancora potrebbe esserci la possibilità di vederli nel prossimo DLC Ma per il momento, come primo personaggio annunciato come primo personaggio ufficiale abbiamo Super Baby Vegeta 2 Personaggio attesissimo Ci si domandava già per quale motivo fin dall'inizio del gioco non era stato inserito all'interno del roster e magari per quale motivo anche non era stata inserita una storia con lui e qui ce lo ritroviamo all'interno del settimo Bene, lasciam perdere comunque che questa politica di tutti questi DLC è abbastanza... Lasciam perdere ancora una volta Però, però, almeno stanno colmando dei voti che sinceramente, vi ripeto, dovevano essere già colmati dall'inizio cioè dal Dragon Ball Xenov S2 proprio gioco senza DLC Almeno li stanno colmando e quindi va bene comunque Va bene comunque Allora, vedo che si parla di Dragon Ball Xenov S2 Deluxe Edition Ora, ci mancano ancora le traduzioni Vi dico, potrebbe esserci la piccolissima possibilità che, proprio perché c'è scritto Dragon Ball Xenov S2 Deluxe Edition questo personaggio, questo DLC potrebbe rientrare all'interno del primo Season Pass Non ne sono sicurissimo perché il primo Season Pass, lo sappiamo comprendeva il secondo DLC Anzi, il primo DLC, il secondo DLC, il terzo DLC e il quarto DLC Mentre poi i due DLC extra che sono usciti con Goku Ultra Estinto e con Buand, Arbula, Tapion e numero 13 non sono stati inclusi nel Season Pass ma hanno avuto un Season Pass a parte l'extra pack Questo qui, vi ripeto potrebbe esserci la piccola possibilità che possa rientrare all'interno del primo Season Pass quindi speriamo davvero perché altrimenti sarebbero davvero altri soldi ancora una volta che se ne vanno ok, per un nuovo DLC che si spera non ci darà soltanto questo personaggio altrimenti, cioè ok, va bene tutto però spendere, non lo so, 10€ per un personaggio mi sembra un attimino un azzardo, ecco per non dire altro ovviamente non credo che sarà lui l'unico personaggio però staremo a vedere per quanto riguarda ciò che vediamo abbiamo delle immagini purtroppo in bassa qualità però mi sembra di vedere una sorta di Gallic Gun e ci sta mossa di Baby vediamo un'altra mossa che sembra tipo ad impeto va bene abbiamo poi quello che sembra essere il Final Flash alla Baby va bene ed infine abbiamo la mossa iconica in assoluto per quanto riguarda il personaggio e cioè la Revenge Death Ball quindi dal punto di vista delle mosse sembra un personaggio abbastanza bello non vedo l'ora di utilizzarlo perché è un personaggio che mi è sempre piaciuto Baby ne ho sentito la mancanza in Xenoverse quindi dai davvero niente niente male ovviamente credo che siano queste le prime informazioni del settimo DLC e ne arriveranno anche altre ne parleremo tra l'altro anche di tutto ciò che è stato rivelato in generale in questi giorni nel prossimo Dragon Ball News uscirà a giorni se non domani per dirvi e quindi signori a questo punto spostiamoci su Dokkan Battle perché vi dico non c'è molto da aggiungere le immagini parlano chiaro allora prima di tutto abbiamo in alto come potete vedere all'interno della scan un po' lunga per quale motivo? allora a quanto pare tutto ciò partirà comunque da luglio all'interno di Dokkan Battle Jap mi raccomando non global noi a luglio nel global avremo praticamente quello che possiamo definire alla fine l'anniversario quindi arriveranno le due LR attenzione nel Jap invece avremo una nuova campagna di Polunga quindi nuove missioni che sicuramente sono tanta tanta roba avremo poi dei tesori per un massimo di 7 a quanto pare che ci permetteranno di ottenere dei personaggi presenti in una sorta di lista di 77 personaggi bisognerà capire un attimino cosa vogliono dire con tutto ciò avremo poi probabilmente delle reward dei login bonus molto importanti quindi ci consigliano di loggare ogni singolo giorno e di non perdere mai un login a luglio quindi mi raccomando ed infine ed infine abbiamo proprio lui lo starete vedendo sicuramente a schermo abbiamo un nuovo Goku Super Saiyan di quarto livello non si sa tuttora se sarà presente all'interno di un Dual Fest e se quindi c'è il bisogno ancora di annunciare un nuovo personaggio la sua controparte praticamente però a quanto pare si abbiamo un nuovo Goku Super Saiyan di quarto livello sarà tech e sarà class leader di una classe chiamata Full Power non chiedetemi per quale motivo ok questo si potrebbe essere un Goku effettivamente in forma full power infatti viene definito Goku addirittura ultra full power Super Saiyan di quarto livello quindi addirittura un nome totalmente diverso dal quarto che avevamo già quindi l'STR e ci potrebbe essere anche la possibilità che possono giocare insieme nello stesso team quindi tanta tanta roba davvero e insomma come vi dicevo sarà quindi il class leader di questa categoria nuova cioè full power dove sicuramente avremo all'interno full power freezer avremo all'interno anche qualche altro personaggio che adesso non mi viene in mente però sicuramente avremo i personaggi che hanno ottenuto dei potenziamenti oltre il loro limite o che hanno raggiunto la loro massima potenza tra l'altro piccola cosa che stavo per dimenticare a quanto pare a quanto pare non è detto ma a quanto pare questo Goku non dovrebbe possedere la meccanica della trasformazione molto strano molto molto strano cioè non nel senso che questo Goku non possiede la trasformazione ma molto strano che non stiano facendo uscire più personaggi che possiedono trasformazioni cioè l'ultimo in ordine di uscita è Vegeta Blue Evo ok ci sta però sinceramente ci aspettavamo tutti per questo Luio a parte un Dual Fest ma proprio un personaggio almeno che possedesse una trasformazione così a quanto pare non è stato non sarà perché cioè dalla scan si vede perfettamente vediamo un attimo allora si vede prima di tutto un artwork di Goku IV in forma SSR ci viene proprio detto quindi questo qui sarà probabilmente il Goku che troveremo all'interno proprio sul banner dell'esamon ecco quindi in forma SSR che poi passa direttamente ad OR quindi livello 120 di solito quando si tratta di personaggi con trasformazione abbiamo sempre per dirvi una scan dove abbiamo tre artwork abbiamo prima l'artwork ad SSR poi abbiamo l'artwork a OR e dopo l'artwork a OR abbiamo praticamente l'artwork della trasformazione come è stato praticamente con Vegeta Blue Evo che venne annunciato proprio all'interno del V-Jump invece qui abbiamo soltanto tu e Arthur quindi abbiamo Goku SSR e poi Goku R insomma ci sono rimasto un pochino maluccio da questo punto di vista però è pur vero che Goku IV effettivamente va bene che questo qui si chiama full power ma non ci sta tanto con una trasformazione perché a meno che non me lo fanno partire da Goku bambino base poi me lo fanno trasformare magari in quarto livello e lì ci starebbe l'abbiamo visto tante volte effettivamente all'interno dell'anime meno che non mi fanno questo si farlo partire già in quarto livello e poi fargli fare una trasformazione che non avrebbe il minimo senso cioè va bene dargli un power up un full power ma farlo diciamo fargli ottenere questo power up tramite trasformazione mi sembra una cosa un attimino esagerata esagerata per il resto continuando a guardare un attimino la scan vedo che 77 personaggi probabilmente potrebbero essere delle ciofeche perché davvero ci sono due personaggi improponibili golden freezer agl abbiamo gotenint abbiamo gotenx fisico che comunque rimane sempre un buonissimo personaggio abbiamo gohan super senso di secondo livello me bardak ok il trunk stack purtroppo vabbè è carino come personaggio ma lascia un pochino il tempo che trova fatto sta che non abbiamo ulteriori informazioni sappiamo soltanto che questo personaggio uscirà il 4 luglio e vi ripeto bisogna solo scoprire se sarà l'unico personaggio quindi da dockham fest o se ci sarà una sua controparty quindi una sua spalla che gli farà compagnia all'interno di un dual fest comunque abbiamo un revamp di goku quarto signori tanta tanta roba si rivelerà essere sicuramente un personaggio fortissimo fortissimo già il goku settiere è comunque ancora fortissimo molto molto forte questo qui sicuramente sarà una bomba ve lo dico una bomba quindi signori per il momento il nostro video si conclude qui abbiamo parlato di xenoverse abbiamo parlato di dockham nei prossimi video andremo a parlare delle ulteriori novità che abbiamo sia sui film e che abbiamo anche all'interno proprio in generale del mondo di dragonborn quindi rimanete sintonizzati quindi signori a questo punto mi piace mi raccomando se il video vi è piaciuto e se volete altri video simili commento iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti condividete questo video e quindi noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video iscriviti al canale